Allora, io sono una cantautrice, per cui la base che sentirete in pratica è la mia musica. Purtroppo, dovendo iniziare, cioè dovendo durare un minuto, voi non potrete sentire l'inizio del ritornello, a meno che il tecnico inizia a dare il secondo numero 20 del ritornello. Allora possiamo sentire l'inizio del ritornello. Non è cantata, è suono musicale, però è miglia. È tutta roba... Ah, meno male, il messaggio, lo dico prima per chi non lo intuisse. Siccome la canzone si chiama Shanti, cioè pace, che è una parola sanscrita per chi la conosce, allora vorrei dare un messaggio, è questo bianco, tutto questo bianco compresi i capelli significa un messaggio di pace. Me lo tolgo perché la vita di tutti i giorni significa costruirla, questa pace, giorno per giorno. dentro di noi, per portarla anche fuori di noi. Comunque sta su YouTube, Mulla Shanti. Non si può dire. Aiuto. Va bene, tranquilla. Ok, pronta? Via. Grazie. Grazie. Grazie.